Dario Catalano è stato presidente dell'Ordca Spreta per tanti anni e ha sentito un pacamento in sin sponsor dell'Evento Florenta Ho sentito la Stanguelini di Temodolo Settore Anche la Stanguelini di Temodolo è un po' grassa di carburazione è qualcosa che non vale la stagiettoria ma il fatto che si sono abbassate le temperature è un po' sferiche che non aiuta la combustione purtroppo